Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Ho 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 Ho! non c'è non c'è Sì 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 Sì, c'è un sacco, c'è un po' no 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 peleamos vamos allá no sé cómo va espero que me enseñen qué guapa la intro Non è vero, non è vero, non è vero. Non c'è male perché dalla ccible Ah che giocità calculus Voglio riusc mean Ugirà fake Come la noce Lei? La cosa più di più Come la c overly Mani . 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 Cness забanerà. Все, ну, нормально, все. A делайте, пожалуйста, момент. Я obiettelto, che sta a moment, quando io per il vaso usare questa integranda. I stanzo, scus auto. Как создare moment? Я забыл, b*****. Ale, Modere, you can create moment? Как é? Slash, slash, che? No, no, no. Cae justo en mi cumple Nos festejamos allá Puta madre, pinche vato a fiesta Cagada, neveras No puedo llevar a mi novia para allá Pero estaré yo Sprint, recuerda Que estamos en directo Y la gente Puede ver Que tienes novia Y eso Baja tu audiencia Broma Bromita Oye Carre Tu irás Afuera los topos El Carre irá Oye All right. Lava pool, and I need some flint. Theיסans say that. Cились lots of options, but many of you told me are mine too. I really like this. She has no fear that she buts. But I think she doesn't trace everything. And it's interesting in me who I can imagine! So, I don't like this. Sì C'è proprio il mio senso. Ma io non ho capito? Perché non è un altro? Non, non ho capito. Non ho capito, non ho capito. Non è vero che non ci sono mai detto. Non è vero che nessuno ha detto che non è mai detto. Remici, non è vero che non è vero. Non è vero. Oh, non è vero. È bene? Ma! I think it's better, yeah. Um, ok, so we got a meltdown starter. But like, um, yeah, I think the Belmont remix is worse. Because the main thing that you complained about, George, was going and getting the blocks. Now they just made it so it's like, go get the blocks, and it's weird. Yo! WStreamer. LStreamer. That's what you gonna do? Why would you... Do you know what people did there? ZingBurger, Rilph, Go, S, Go, S, Go. Ah, it's YouTube number one. I know? It's 18? I did that? The Story of the New Year at the time. Grazie a tutti o ah 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 t is gorda Zero immérico Sì, c'è un po' che c'è? per la mia città la mia città la mia città il rimbio ecco 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 Ciao a tutti!